web quest formazione software la web quest è una caccia documentaria fatta nella rete attraverso le risorse della stessa funziona più o meno così si stabilisce un argomento da approfondire il docente ne indica le tappe argomento strumenti risorse valutazione e gli studenti individuano le strategie più opportune da un lato limita le perdite di tempo in quanto la caccia si svolge all'interno dei siti previsti dal docente dall'altro qualcuno la critica perché alquanto limitante ma per la scuola primaria e per la scuola media è senz'altro una buona pratica